in quel tempo gesù disse ai discepoli se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli amico prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli e se quello dall'interno gli risponde non mi importunare la porta è già chiusa io i miei bambini siamo a letto non posso alzarmi per darti i pani vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono ebbene io vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete bussate e vi sarà aperto perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto quale padre tra voi se il figlio gli chiede un pesce gli darà una serpe al posto del pesce o se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli quanto più il padre vostro del cielo darà lo spirito santo a quelli che glielo chiedono spesso capita che noi sacerdoti svigliamo la preghiera di richiesta dei nostri fedeli ritenendola qualitativamente inferiore rispetto ad altri tipi di preghiera come ad esempio quella di ringraziamento o di lode niente di più sbagliato anche perché così facendo diamo un giudizio negativo anche su coloro che la praticano direi che non esiste una preghiera di serie a o di serie b e se avessimo qualche dubbio circa la qualità della preghiera di richiesta ecco che il vangelo oggi se li dissolve tutti gesù è chiaro non stancatevi di chiedere chiedetevi sarà dato cercate troverete bussate vi sarà aperto questa sequenza di verbi mi fa venire alla mente quando ancora senza gps dovevano trovare la casa di un nostro amico in un paese forestiero si chiedeva qualcuno la strada la si cercava e poi si bussava la porta il cammino della preghiera di richiesta è un po' questo si chiede si cerca e si bussa e che dentro apre cioè dio risponde alle nostre domande e soprattutto le esaudisce sant'agostino risponde che dio esaudisce sempre le nostre domande tranne quando petimus male petimus mali petimus malo cioè quando chiediamo nel male nel peccato quando chiediamo cose malvage cioè fuori della volontà di dio e quando le chiediamo in malo modo senza fiducia in ogni caso la preghiera di supplica non ha la finalità di istruire dio ma di costruire l'uomo questo pensiero di sant'agostino è stato maggiormente elaborato da sant'ommaso che chiarifica dio va avanti per la sua strada non può cambiare idea in base alle nostre preghiere sarebbe un suicidio non solo di dio ma anche dell'umanità pensate se due tifosi antagonisti chiedessero la vittoria della loro squadra nella medesima partita e questo è un esempio banale ma allora cosa serve la preghiera di richiesta anzitutto dice tommaso a farci prendere consapevolezza le preghiere non svelano a dio i nostri bisogni lui li sa già servono invece a noi per chiarire a noi stessi quel bisogno le preghiere non vanno a cambiare i disegni della provvidenza ma ad ottenere ciò che dio aveva già prestabilito di donarci noi preghiamo affinché siamo disposti ad accogliere quanto dio aveva già preordinato dall'eternità concludo con questo esempio le suore di clausura mi hanno raccontato che un ragazzo andava a pregare sempre affinché dio gli facesse trovare la fidanzata ha pregato così tanto che è entrato nei frati grazie a tutti